ok diciamo che sto in diretta vediamo un po' questo si vede allora poi quest'altro pure si vede ok allora sto in diretta giusto un po' di compagnia se ce l'avrò perché per i codaccio si vede pure dalla barbona lunga non c'ho avuto il tempo più da affilate farmi la barba allora ma voglio prendere più di un'ora per farmi le mie affilature è un periodo che va de moda tutto sintetico pare che l'affilatura sia diventata una rogna un problema irrisolvibile sarà registrando? sì penso che sì problema irrisolvibile prima se fa è meglio è meno pietre se usano è meglio è io mi sono stufato voglio ritornare ai vecchi sistemi quindi tutto tutto naturale tutto molto lento 50.000 pietre o 50.000 tomo per cui sotto il microscopio ho già messo aspetta forse è meglio così sarà un po' più sfocato però allora sotto il microscopio ci ho messo il ma come ricordo che ero so io dovrebbe essere aspetta è rapsodia forse non sta né bene né male ma a me voglio fare la mia bella affilatura partendo eccola qua dalla mia bella mogusa bianca che è un po' ciao Massimo un buon pomeriggio pure a voi se vi rispondo con molto ritardo perché come al solito piove sul bagnato ho una connessione che fa schifo comunque ho visto Fabrizio ciao Fabrizio pure a te io nel frattempo mi prendo sì il rasoio sì il rapsodia eccolo qui non ho preparato niente per cui sto in ritardo ma ripeto me ne frego perché tanto stavolta lo dico prima sarà lunga molto lunga per cui il nastro telato diversamente etero perché si può dire che il tuo colore è fucsia no adesso è diversamente etero deve essere tutto politicamente corretto ma diciamo perdere ma io non lo dico quello quello che penso sul serio ok più o meno vediamo un attimo quindi ecco questo approfitto pure per sfogarmi un po' perché ci avete fatto caso che non sto partecipando molto alle alle discussioni sul gruppo vuoi perché non c'ho il tempo questa è proprio una giornata questa adesso è un'ora e mezza rubata agli impegni di casa vuoi perché se no le dovrei sparare troppo grosse vedo tanta ansia che sta rientrando nel gruppo eh ma l'angolo 17 gradi 16 8 25 e un quarto si cominciano a dai numeri proprio all'otto ecco io sto usando un nastro telato quindi qua ho sballato tranquillamente 18 gradi boh saranno pure 18 e mezzo ma sapete la novità che si cazzi non è quello bisogna conosce come reagisce il rasoio e bisogna conosce come reagiscono le pietre poi ognuno si fa i contarelli suoi io adesso per velocizzare il tutto mi do una bella strofinata con la diamantata ormai non c'è rimasta più va bene che la musa è dura ma guarda qua strofini 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 non esce fuori niente ehi com'è che tutto così sfogato se ne è andato aspetta un po' boh ma se vede veramente così male ehi torno un po' subito dalla diretta se se vede così male eh eh già non mi piace sta cosa te mi vedi bene io sul mio facebook live aperto vedo tutto sfogatissimo voi vedete bene mentre stavo strofinando con la diamantata io continuo a vedere tutto sfogato all'anteprima vabbè io intanto comincio con con la bisellatura sulla macusa però se mi date ancora un riscontro per cortesia se adesso questa parte qui mentre sto lavorando sulla prima fanghiglia se davvero ancora siete bene io vedo sfogatissimo ok massimo mi vedi in full hd e la cosa mi fa piacere ma è nitido è a fuoco allora perché c'è molto ritardo tra quello che io faccio in diretta è quello che arriva a voi ci saranno almeno 10 secondi di ritardo adesso mentre sto bisellando lo so sono noioso però lasciatemi perdere assolutamente a fuoco vabbè meglio così lo sfigato di turno sarò io allora io sto bisellando con la macusa poi pervena polemica sti giorni se mi mozzica una vivera more e la polemica è sempre con quelli che dicono che la macusa è buona come sottovaso e sia perché ho detto ridetto che sulle naturali è un'altra cosa allora sento qualche cosa che non va quindi ho come la sensazione che ci sia un po' di sporco sento sapete tipo il granellino di sabbia forse leggermente più nidido il panno blu vabbè se è solo quello il problema è che io mi scordo sempre di mettere di togliere l'autofocus per cui muovendo la mano allora vantaggi e svantaggi oh grazie Massimo per me fare domande così ti ripeto cercavo compagnia quindi le domande mi aiutano parecchio allora partiamo subito dagli svantaggi perché è chiaro che una 3000 sintetica soprattutto se è di buona marca ecco se avessi voluto far presto avrei preso la 3000 della raniva la serie pro che costa un po' di più delle altre ma in effetti è una pietra meravigliosa ti ho mandato la foto di come si vede su messenger è perfetto e non so dove mi hai mandato la foto ma io ti ripeto sto talmente messo male che mentre faccio le live o registro chiudo tutti i programmi ho chiuso whatsapp ho chiuso tutto vabbè comunque continuo a rispondere al massimo è chiaro che una 3000 buona sintetica di marca ecco a questo punto da mo che sarebbe stata finita la bisellatura la sintetica è veloce è prevedibile e quindi per chi non ha tempo o non ha voglia cioè per quelle tante persone che io non apprezzo e non capisco per cui l'affilatura è solo uno scotto da pagare per avere il rasoglio in ordine beh l'affilatura la bisellatura su sintetica rapida veloce è prevedibile qui ogni pietra fa storia a sé ma anche sulla stessa pietra vedete qui inclusioni ferrose un punto con meno inclusioni goma qui ci sono qui ce ne sono di meno quindi cambiano le caratteristiche del materiale e bisogna adeguarsi quindi lo svantaggio è che è molto più impegnativo affilare sulle naturali soprattutto in bisellatura che poi tutto da lì dipende se alla fine verrà un buon risultato o meno il vantaggio il vantaggio che è naturale il vantaggio è che partendo da una naturale e facendo molti step cioè non facendo salti grandi viene fuori secondo me una perfezione anche estetica difficilmente raggiungibile con con la sintetica secondo me lavorare sulle naturali è un po' come fare la lucidatura all'acciaio no? l'acciaio si lucida specchio come? facendo tanti passaggi su carta abrasiva senza mai saltarne uno ogni carta deve cancellare perfettamente i segni lasciati dalla precedente per cui uno dei passaggetti si deve fare tutte la 280 la 400 la 600 tutte altrimenti una riga non cancellata te la porti fino alla fine e sulle naturali è la stessa cosa devi lavorare e devi trovare la pietra giusta per ogni step per ogni pezzettino per ogni fascia di grit allora io intanto vedo un attimo faccio il primo controllo madonna quanto è bello allora vedete che bello 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 ed è così bello soprattutto se uno pensa che la macusa è una 1000 è una 1200 guardate un 1200 naturale che è estremamente più fine rispetto alla 3000 sintetica una 3000 sintetica questi marchi da filatura non te li lascerà mai ti farà un lavoro perfetto ti farà un bello accuminato ti farà un bel filo ecco sulla naturale c'hai l'efficienza unita all'estetica il tipo di satinatura la morbidezza del del tratto del del marchio d'affilatura guardate che spettacolo me ne vado un po' in giro per vedere il filo il filo che è giustamente sfrangiato come deve essere su una 1200 vedete qualche imperfezione verso la base del bevel poi vi ripeto io sto sempre con i massimi ingrandimenti realizzabile questa con altre attrezzature non l'avreste viste e sto godendo come una scemmia sto godendo come una scemmia e non insisto più di tanto perché ho intenzione di fare un'altra cosa guardate mi ero mi ero già aspetta dov'è piano di lavoro qua mi ero già preparato delle tomo grossolane per fare i passaggi intermedi però visto come è andata allora Massimo che dice beh nella mia modesta esperienza rispetto alla mia naniva 3000 super stone questa non lascia praticamente traccia di marchi di affilatura questa non lascia traccia ma ripeto questa è una 1000 1200 questa è una macusa bianca paragonabile a una Binsui questa non è una Binsui è troppo sporca è troppo grossolana per essere considerata Binsui è molto più uniforme è molto più chiara siamo intorno al 1000 diciamo pure un 1200 tanto per è grossolana è grossolana ma guardate qui è sempre il solito giochino io lo faccio vedere aspettate se si riesce a mettere a fuoco ti vedete aspetta questi sono peli tagliati al volo dall'avambraccio comunque la tolgo subito di mezzo quindi non lascia tracce di affilatura è la bellezza delle naturali perché se tu pensi nella tua 3000 che poi che sia la serie super stone che sia la pro che sia l'economy eccetera eccetera la grandezza degli abrasivi che sono contenuti nella matrice scusa che devo posare la pietra eccola qua e qui adesso comincia la parte più bella stavo dicendo la grandezza degli abrasivi è tutto uguale se tu compri una 3000 sintetica gli abrasivi sono tutti della stessa misura in micron io adesso non lo so un 3000 quanti micron ne corrispondono sparo a cazzo 6 micron 7 micron non lo so è potersi che sto dicendo una bestialità di quelle grosse ma sono tutti uguali per cui necessariamente lasceranno dei marchi di affilatura molto visibili tutti uguali belli e per carità tutti belli ordinati tutti quanti belli messi in fila dove l'acqua qui no le pietre naturali vengono classificate a parte che non si può parlare di cricket perché entrano in gioco tante cose non solo la misura dell'abbrasivo entrano in gioco la disposizione in tre dimensioni dell'abbrasivo sia sul sul piano che nella profondità la densità degli abrasivi quanti abrasivi per centimetro quadrato cubico scusate porta quindi per quello diciamo che non si può parlare di grit aspettate io intanto faccio così almeno che non si può parlare di grit sulle naturale perché tanti sono i valori però è chiaro che noi quando parliamo di grit per intendere la grandezza sia il lavoro con Rapsodia Felix Robert Felix vabbè poi mi dirai se è Robert o se è Felix e lo stavo dicendo è chiaro che si prende in considerazione l'abbrasivo di misura maggiore contenuta nel campione di pietra perché qua parliamo sulla macusa di 1200 magari dentro però ci stanno pure gli 800 ovvio che il marchio principale sarà quello dell'abbrasivo più grosso ma su una pietra che ha abrasivi di un certo micron ce ne saranno pure tanti altri di misura inferiore quindi il marchio che lascia un marchio molto più gentile un marchio meno inciso non sono tutti graffi della stessa profondità tanto per e ritorniamo io nel frattempo ho approfittato della chiacchiera per spipparmela torniamo sul piano del lavoro ho ho messo la Momiji Yama che è perché intanto perché è un meteogrit favoloso poi questo esemplare soprattutto ma sempre dato soddisfazioni perché adesso io la voglio utilizzare con due tomo faccio due passaggi intermedi una tomo da 4000 e una tomo da 8000 ok già questa la 4000 mi sono scordato che razza era quando mi viene in mente ve lo dico la 8000 è sicuramente una è una shobudani questa dovrebbe essere dovrebbe essere una takashima ma non una takashima da finitura questa è un 4000 l'ho presa come 4000 andavo proprio cercando un medio grit quindi praticamente su una pietra di base di medio alto grit di grit medio alto guardate proprio pure la dislessia ciao Marco faccio ruotare due tomo di granulosità diversa proprio per quel discorso che stavo facendo prima di raccordare i grit di raccordare la finezza nel passaggio da una pietra di base all'altra per non passare direttamente dalla macusa alla momiji yama perché il salto potrebbe essere troppo ampio allora che cosa faccio sulla momiji yama ci vado a mettere un grit più basso quindi sotto sarà sempre quel 57000 perché la momiji yama il range quello è ma sopra questa fanghiglia la vedete rossiccia si vede che il colore è diverso dalla pietra di base questa è molto molto morbida per cui la sospensione è quasi tutta della tomo quindi uso questo giochino di due tomo per fare dei passaggi più sfumati per arrivare in finitura facendo in modo tale che sul bevel e di conseguenza sul filo i vari passaggi siano tutti molto 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 raccordati che non ci siano passaggi salti importanti tra una pietra e l'altra per cui se io calcolo questa come pietra centrale dell'affilatura la utilizzo una volta con una tomo grossolana poi la lavo e la seconda volta con una tomo fine che poi devo vedere se con una tomo fine o gli do una spazzolatina con la diamantata e uso la fanghiglia di momiji ama stessa non lo so ma vediamo come come mi gira nel frattempo vedete sto con mezzo rasoio fuori prima ho dato un'occhiata al filo è abbastanza rettilineo però visto che verso la punta era leggermente indietro il bevel era leggermente più basso per cui adesso vado sempre cerco di andare correttamente ma non tutti i passaggi li farò correttamente però ogni tanto un po' di preferenza alla punta la momiji ama con il lit equivalente di suo quanto sta 5.000 6.000 ah ok mi hai risposto no Fabrizio Scorzese guarda ti dirò questo esempio allora si il range è quello di solito la momiji ama la puoi assimilare come range d'utilizzo a una sushima quella nera per capirci no quella che può essere di mare di montagna ma il 99% degli esemplari che girano sono quelle di mare diciamo che questa in particolare glielo proprio chiesta taglia su senti per favore io ho bisogno di insomma è molto molto fine per la sua categoria diciamo che è più sul 6 7.000 anche cioè tra questa e una shobo chiamola così non particolarmente pregiata perché la shobo pregiata è da finitura estrema una shobo insomma normale ecco questa si avvicina più verso la shobo diciamo non non sbaglio se se la porto più sul 7.000 che sul 5.000 ma ti ripeto questa poi ormai è diventato un mantra no ognuno deve conoscere le sue pietre ecco questa nella sua categoria è particolarmente fine credo che cavata dalla stessa realizzata dalla stessa pietrona tagliata dalla stessa pietra ci abbia la sorella Carlo infatti anche lui ne è rimasto so che ne è rimasto contentissimo poi ecco sono affilature burrose sono quelle rilassanti io quella andavo cercando basta con la 3.000 8.000 sintetica e poi il passaggio sul naturale si va bene per chi comincia va bene per chi non vuole troppe pietre non vuole spendere tanto per carità tutte motivazioni più che rispettabili ma io le pietre ce le ho a quel punto oltre 100 pietre ma che ce devo fare se non le uso e a me l'affilatura tutta naturale mi piace tanto guardate una cosa non so se si riesce a vedere sul video io sto lavorando con una fanghiglia tanto densa me ne rendo conto da solo che sto esagerando sempre per quel principio di tornare leggermente indietro adesso io con questa fanghiglia non voglio andare già sul filo tirato sul filo perfetto voglio solamente raccordare un po' quello che ho visto con la macusa quindi non voglio un risultato bello da 7000 ci voglio arrivare gradatamente quindi sto usando una fanghiglia densa quindi qualche cosa che è sbagliato insomma qualche cosa che io non consiglierei a chi me lo chiedesse ah no guarda lavora con una bella fanghiglia pappona di qua di là io lo so che sto sbagliando però ho in mente già determinati altri passaggi da fare successivamente quindi adesso mi sto con questo passaggio io mi sto preoccupando più dell'estetica del bevel che del filo vero e proprio lo so che il filo lo sto facendo tornare un po' indietro che tutta questa fanghiglia così pesante così densa qui siamo a livello yogurt yogurt da bere sempre intendiamo quindi è leggermente troppo dura e probabilmente quando andrò a vederla al microscopio il filo ancora non sarà in ordine ma vi ripeto questo per me è un passaggio estetico perché tanto sono sicuro che una volta usata correttamente questa pietra e soprattutto l'ultima che è la sante benedetta del filo c'ho poco da preoccuparmi basterà solo la sante benedetta per tirare il filo alla morte quindi adesso mi sto dando ecco sto lavorando col principio della lucidatura dell'acciaio piccoli passi prima c'era un grit naturale da 1200 adesso sto lavorando su un grit naturale intorno ai 4000 poi userò un grit naturale intorno ai 7 poi se mi gira ci metto pure la sciobutani sopra quindi da 7 tiro verso l'8 e poi l'ultimo salto sulla sulla naturale sulla scusa sulla pietra da finitura ok non insisto più di tanto adesso come al solito acquetta lavo un attimo il rasoio perché veramente ce n'è tanta adesso di fanghiglia sulla lama ce n'era veramente tanta di fanghiglia sulla lama un'altra cosa l'ho già detto però ripeto non fa me male tante volte il il lavoro si rovina qua ecco con l'asciugatura se io vado a premere anche se non striscio se ci sto attento ma su un filo molto sporco le righe i segnacci glieli faccio io in questo momento quindi quando vado ad asciugare la lama io l'asciugo per andare sotto al microscopio è chiaro che il microscopio non lo usa non è che c'ha bisogno di fare tutti questi passaggi di andare ad asciugare il filo ogni volta allora andiamo al microscopio eccolo l'ho passato allora quella è una macchiolina di sporco niente di chemo o vado a destra o vado a sinistra è uguale anzi vediamo nel punto peggiore ecco mi fermo qua allora lo vedete intanto rispetto a prima la satinatura comincia a diventare molto molto più fine e cominciano a uscire i primi sgraffietti queste sono normalità queste sono le varie impurità della pietra una pietra perfetta perfetta non esiste nella matrice oltre gli abrasivi madre natura ci ha messo tante cose per cui magari in qualche punto c'è un pezzettino più duro un minerale leggermente diverso per cui quello è normale e poi ricordiamoci sempre che stiamo parlando di un 4000 questo è il lavoro di un 4000 naturale diciamolo così leviamo sti grit da mezzo di una pietra di medio grit di grit medio basso diciamo quindi adesso che cosa succede allora adesso succede che io la pietra va a lavare che non è facile quindi adesso con pressione con lo spruzzino devo stare attento devo fare le cose fatte bene vado a togliere tutto tutto il fango quindi anche sui bordi di fianco non deve rimanere più niente di questo che ho utilizzato quindi strofinatina proprio è difficile farvela vedere comunque cerco di staccare bene tutto di nuovo dando pressione allo spruzzo ok con la pressione cerco di lavare per bene tutto ah e lo sapete perché lo sapete ma quella era acqua demineralizzata per cui proprio per cercare di togliere qualsiasi cosa adesso le soluzioni sono due o andare è rimasto un po' il simbolino ancora qua o andare con la classica sciobu con la classica tomina di sciobu si trova dappertutto questa come al solito viene da Yasuko ma insomma ce l'hanno tutti ce l'avete tutti sicuramente oppure diamantatina e andare direttamente con la sola momiji yama visto che almeno sulla carta la momiji yama è leggermente ma leggermente più grossolana della sciobu sempre per il principio il discorso di non fare grossi salti ho deciso che vado di diamantato quindi vado di sola no che cazzo la sto facendo ecco qua vado di sola momiji yama quindi pure qui una bella strofinata leggera senza spingere perché non bisogna staccare bisogna evitare il pericolo che si stacchino pezzi troppo importanti quindi che già la fanghiglia di base sia bella fluida e qui adesso comincio ma solo comincio a stare attento anche alla densità di questa fanghiglia certo tiro fuori quello che devo tirare fuori però come vedo non è che ne faccio poca però la tengo idratata quindi come vedo che si sta addensando il fango subito vado a diluire se ci avete fatto caso con la 4000 con odio già mi sono scordato però beh con la takashima di grit medio basso non ho mai rinfrescato la sospensione quindi mano a mano che la sentivo addensarsi l'ho fatta addensare che dice qua massimo mi hai fatto venire voglia di amakusa ragazzi mi fate fare buffone un attimo prima che io cominciassi a fare video l'amakusa a non la conosceva nessuno b quei pochi che la conoscevano comunque la consideravano pietra da coltello perché poi di amakusa ce ne sono tante questa è una amakusa bianca la amakusa rossa quindi siamo sotto i 1000 siamo sugli 800 è effettivamente da coltello la amakusa rossa è a poro aperto molto pericolosa sui rasoi anzi meglio non usarla però è una bella pietra da coltello e la amakusa non veniva usata per le nostre affilature io come al solito che so come San Tommaso ma dico ma fammici provare quando ho visto che funzionava ho cominciato a farci qualche video sopra e non vi dico quello che è uscita adesso la amakusa più che altro la binzui ormai è sdoganata come pietra da bisellatura è forse una delle migliori in questo momento delle più conosciute da bisellatura naturale ma fa sicuro che in Italia non la conosceva nessuno al punto ripeto che è un imbecille perché altro altro termine non mi viene fece la sparata ma tu conosci la amakusa si è ottima come sottovaso ma l'avete visto da sopra no perché in conto è fare chiacchiere io tutto quello che ho sempre detto l'ho sempre dimostrato con i fatti quanto tocecodo io su sta cosa non mi sono mai messo in tasca una lira non ho mai affilato a pagamento a nessuno anzi cerco proprio di non affilare a nessuno anche perché purtroppo un mio e voglio dire amico è successa una brutta cosa che mi ha mandato due rasoi che lui era le prime armi non riusciva proprio ad affilare e diciamo che si sono persi nel tragitto è stato fatto l'errore di non di non chiamare un corriere oppure l'errore di non fare alle poste di fare una raccomandata era normale busta mille bolle ma non raccomandata non tracciabile niente guarda caso è sparita e visto che ci sono rimasto più male io di lui ho deciso basta nessuno mi deve spedire niente perché mio sta responsabilità fosse pure morale ma voglio allora scusate non ho detto più il coso Antonio ciao Antonio scusa se ti rispondo solo adesso mi ero distratto che dice Robert io la macusa rossa ce l'ho ma è molto perosa è ottima fra i cortelli esatto quello che ho appena detto che poi anche lì queste pietre sui coltelli ormai ci hanno senso queste pietre tipo la macusa rossa ci hanno senso più per tradizione che per altro perché quando tu devi scendere a un grit così basso per affilare un coltello i coltelli ormai si affilano solo con diamantate e sintetiche un coltello che non ha problemi cioè solo da dargli un po' di mordente al filo una riaffilatina vai con le sintetiche e c'hai una bella c'hai un bel risultato se il coltello ha problemi è caduto c'ha delle ceppature importanti vedete che io sto facendo una cosa sto lavorando sulla pietra pulita perché a fare questo gioco qui a rimanere fermo sul posto vedete che la fanghiglia me la sposto quindi adesso il rasoio è sulla pietra pulita e alterno ogni tanto su pietra pulita e ogni tanto su fanghiglia quando vado avanti e indietro vedete la fanghiglia come si distribuisce per cui lavoro su fanghiglia quindi fare questo vedete come rimane certo il grosso lo porti avanti ma comunque rimane un velo di fango sulla pietra quindi ottengo un certo risultato se invece io vado a fare questo mi fermo a metà torno indietro vedete che mano a mano mi porto via da sotto mi porto via la fanghiglia fino al punto di andare a lavorare su pietra pulita in questo caso do efficacia al taglio ciao Antonio in quest'altro caso do estetica quindi lavorando in questo modo io mi sto preoccupando più del bevel che del filo quindi vado a lavorare sulla fanghiglia cerco di avere pochi marchi di affilatura voglio un bevel bello da vedere quando invece mi vado a fermare in un punto e aspetto che il fango esca via venga portato in avanti significa che alla fine sto lavorando su un pezzo di pietra pulita per cui vado a crearmi dei marchi di affilatura è vero però vado a dare efficienza all'angolo vado a dare efficienza al filo comincio a tirare il filo allora pezzettino ancora d'acqua un minutino tanto ecco giusto il tempo di lavorare su fanghiglia fluida e poi altro controllino poi vedete il classico movimento a uscire le passate incrociate io lo sto facendo adesso solo per voi ma quando lavoro a fanghiglia sulle giapponesi io vado solo e soltanto esclusivamente a cerchietti perché se sto cercando satinatura non posso andare in verticale con movimenti sempre monotoni faccio marchi farei marchi di affilatura paralleli mentre così queste invece sono tutte svirgolate passate nel termine che io sto dando quindi saranno marchi di affilatura molto disordinati e questo aumenta l'effetto dell'effetto della satinatura l'unica l'ultima cosa che mi ero scordato di lì perché abbiamo parlato dei coltelli commentando la risposta di Robert io le pietre naturali ormai sui coltelli le uso solo e soltanto sui migliori giapponesi perché lì ho la necessità di fare la finitura kasumi e la finitura kasumi non la fai con le sintetiche posso anche lavorarci su con le sintetiche ma poi alla fine mi devo mettere a fare la finitura kasumi e la finitura kasumi viene fuori vabbè più che altro con le fingerstone ecco qua allora lascio tutta la fanghiglia qua sopra perché non sono sicuro di essere arrivato al risultato la solita sciacquatina al rasoio sto asciugando eh è che purtroppo ragazzi non è che posso sta pensando in quadrature io mi sto affilando il rasoio per farmi la barba o stasera o domani probabilmente domani perché qua non mi rimarrà il tempo stasera neanche per scoramella peccato peccato di riuscire ma me lo vedo indifferire per ora grazie e grazie di che quando io faccio questi video grazie a voi che mi fate compagnia perché io comunque oggi avrei affilato quindi mi sono messo in live ma solo soltanto esclusivamente per avere compagnia che è un video questo che non vuole dimostrare niente gringo gringo ecco e qui il nonno comincia a godere come una scimmia allora ragazzi ne vogliamo parlare aspetta che mi godo l'immagine faccio due cose uno bevo ecco e me la due me la tiro addosso e tre me la spippo dove sta ecco qua Massimo Minnelli pressioni in questa fase ancora non siamo con la mano da fantasma hai fatto bene a dirmelo allora tra il passaggio dalla Makusa alla Momijiyama è chiaro che la pressione è diminuita poco perché perché la prima volta ho fatto la fanghiglia l'ho fatta con un medio un medio basso grit quindi ancora dovevo grattare dovevo togliere materiale per cui ho alleggerito un po' ma non più di tanto secondo passaggio su Momijiyama sola chiamiamola così quindi con la sua sospensione grit più elevato più sali con la finezza della pietra e più abbassi la pressione poi una delle battaglie mie è stata anche questa basta con sta pressione ha solo peso di rasoio stiamo a parlare d'acciaio non è che stiamo a parlare di gallette di riso che te se sfragnano mano scusate il francesismo stiamo a parlare d'acciaio quindi quando uno dice la pressione è bassa controllata d'accordo ma ci deve essere attrito tra l'acciaio e pietra se no puoi stare pure cent'anni a strofinargli sopra non gli fai niente quindi la pressione diminuisce ma non arriverà mai a zero soprattutto è chiaro in questo passaggio sembra un lavoro finito ma guardate ragazzi questo potrebbe essere un lavoro finito perché voi fate questo fate questo ragionamento quante bellissime rasature sentite in giro di persone che hanno affilato con la belga ne sono strafelici rasature meravigliose di belga insomma ce ne ho pure io e gli do ragione ma la belga pure lì se proprio gli vogliamo appiccicare addosso un grit siamo sugli 8000 che siamo sui 7000 diciamo di partenza e aspettate un attimo e aspettate un attimo così prendo pure una piccola pausa il bello del del fango che tirano fuori dai giapponesi per la forma particolare che hanno gli abrasivi è che si affina col lavoro per cui se io sono partito con un tra il 6 e il 7000 mettiamola così ma poi basta dopo oggi non parliamo più decritta sulle naturali quel fango in partenza era così poi visto che gli abrasivi sono lamellari visto che gli abrasivi sono i resti dei gusci di organismi unicellulari di solito di atomee tendono con l'utilizzo intanto a separarsi se all'inizio c'era qualche microscopico conglomerato si staccano per cui si alza sto cazzo di gritta ma è vergogna a nominarla sta parola e dopo di che essendo lamellare e essendo gusci ormai che hanno silicate mettiamola così si frantumano meccanicamente per cui tu parti con un certo livello di grossolanità ecco non so se in italiano sia corretto ma mano a mano che ci lavori sopra si affina il fango per quello c'è bisogno ogni pietra ha bisogno del suo tempo sulla sintetica no la sintetica quello è l'abrasivo parte così e finisce così tu un abrasivo in corindone in allumina non lo rompi non lo spezzi cominci così e finisci cosà per cui quando hai fatto un controllo visto che il rasoio taglia che il filo sta a posto e basta è inutile insistere le vedessi solamente materiale inutilmente qui invece su queste pietre c'è bisogno di calma c'è bisogno di dargli il giusto tempo per lavorare io adesso me ne sono accorto col microscopio ok ma se no uno se ne accorgeva da quanto senti dolce l'affilatura su come cambia l'affilatura ti accorgi che la sospensione è diventata quasi oleosa come sensazione intendo che è più liscia che il rasoio scorre meglio che le vibrazioni sono diminuite e quindi ci sono anche tanti segnali tattici sì tattici madonna che cazzata che ho detto tattili che ti fanno capire che sei arrivato ok sono fermato un attimo la la spilpacchiata me la sono fatta allora ritorniamo sul piano di lavoro guardate come si è ridotta la pietra dopo devo fare un bel lavaggio e la sto togliendo perché a questo punto questa serve più sarebbe stupido quindi questo è tomo si elevano a questo punto si eleva pure questo perché perché adesso arriva la sua maestà eccola qua e anche qui cercherò di fare un unico passaggio ma pronto a farne due allora il passaggio definitivo è lei con se stessa non si scappa aspettate le varie cose allora queste sono le due possibili soluzioni questo è un frammento che ho tagliato io questa è la stessa pietra questa è la soluzione migliore è la sua tomo quindi non un atomo simile la sua un pezzo tagliato dalla pietra di base me sono tremata un po' le mani quando ho deciso di fare sta cosa però col dremel con disco diamantato piano piano spruzzando tanta acqua per non riscaldarla io ho staccato un pezzettino quindi questa è la soluzione di finale questa è un atomo di livello 5 più di finezza che mi ha dato florin insieme alla show budani che gli presi quindi una sicuramente una pietra da finitura all'altezza queste sono le due possibili come diceva il buon generale la chiesa e i calamari cuciti sulla pelle è vero tra tattile e tattica me ci dà subito tattica ciao max ma come ne eri accorto che sono un po' distratto oggi adesso ripeto indifferito all'inizio ok max non ti preoccupare tanti c'è il militare che viene fuori che c'hai ragione allora logica vorrebbe ritorniamo a queste due tomo logica vorrebbe che io facessi prima una sospensione con questa se è sufficiente è sufficiente altrimenti vado direttamente con la tomo cioè vado direttamente prima con questa e se non è sufficiente un ulteriore passaggio con questa però perché bisogna sempre valutarlo il lavoro uno non deve partire col paraocchi come tanta gente a proposito apro e chiudo parentesi l'ansia l'ansia che regna sovrana nel gruppo ma perché boh chiusa subito parentesi perché non voglio maltrattare nessuno allora dove cavolo sta dove sta ma partendo da questo risultato io la la prima tomo la elimino cioè ripeto il risultato va valutato step per step avrebbe senso avrebbe avuto più senso se magari uno non arrivava alla finitura in queste condizioni ma visto che questo rasoio così come sta è pronto per la rasatura adesso gli andiamo a fare veramente l'ultra finitura che ripeto il rasoio è pronto per la rasatura la posso dire la cazzata la posso fare la sparata e tanta gente un rasoio così in prefinitura ha visto mai anzi tanta gente un rasoio così non ha visto mai manco un finitura ok però aspettate prima che cambio inquadratura e ritorno sulle pietre adesso mi sono preoccupato dell'estetica quindi avete visto il bevel praticamente immacolato lo faccio rivedere un attimo bevel satinatura perfetta ma a noi ci frega fino a un certo punto mi sono voluto arrivare la soddisfazione però vedete il filo non dico che ci siano ringrossi perché non ci sono bavette ma adesso mi interessa il filo io adesso con la sante benedetta devo fare tutto quello che posso per il filo per dargli il taglio per dargli la profondità anche perché qua dovrà lavorare guardate che giri che cerchi che fa quindi adesso dovrò lavorare in modo tale per cui già lo so che perderò in estetica perché non posso più lavorare con le fanghiglie belle formate dense grasse eccetera eccetera farò comunque fanghiglia non lavorerò mai a pietra pulita anche perché la sante benedetta è una suite per cui è dura è durissima ci metto niente a sbeccare il filo quindi mi serve la fanghiglia anche a protezione del filo che gli passa sopra però ecco per fare il filo bello accuminato teso tirato qualche marchio di affilatura uscirà fuori quindi lo dico prima allora Alessandro che dice mamma mia che barboncino che hai va tagliato subito sono tre settimane che non mi faccio la barba non vi dico perché perché non mi piacciono le persone che se lamentano pubblicamente facciamo lamentare pubblicamente i Ferragnez però comunque è un periodo con un po' di problemi non personali diciamo familiari insomma c'è da fare non ci ho avuto tanto tempo per per me stesso quando poi uno è libero si vuole pure riposare quindi è un po' trascurato sia l'affilatura intanto scusate piano di lavoro ho trascurato quindi sto lavorando con la sua Tomo con la sua quindi ho trascurato un po' l'affilatura e sicuramente sinceramente il barbone il barboncino me lo taglio dopo 21 giorni quindi esattamente tre settimane lo taglia per quello che mi sto facendo la mia affilatura preferita tutta su genat tutta su le mie amatissime giappo allora vedete qui già si vede che il particolato è molto più fine perché sta venendo fuori ma viene fuori trasparente trasparente perché è composto proprio da materiale finissimo io penso che voi manco manco un'altra cazzata neanche forse riuscirete a vederlo per bene sto facendo delle righe proprio per farvelo vedere forse meglio lo vedete quanto è trasparente perché è molto molto sottile il materiale che lo compone oltre al fatto che è poco oddio oddio sto cercando di resistere alla tentazione di andare a dettaglio ma è troppo pericoloso mettere la tomo dettaglio di spigolo che se potrebbero staccare frammenti più grossolani quindi un po' di pazienza sta altro lato perché cambia niente per non usare la pietra sempre nello stesso verso questo ripeto questa è una che ha tutta una storia l'ho già raccontata tante volte non la racconto più però ecco la cosa più importante è che non è proprio dello strato forse migliore più pratico per l'affilatura dei rasoi che secondo me è lo strato lo strato tomai questo è uno strato suita quindi uno strato il più profondo della vina è quello lo strato da cui si tira fuori il materiale più duro guardate quanto tempo ci vuole per tirare fuori un pochettino de fango e a sto punto mi fermo pure perché mi sono stufato quindi guardate quanto tempo che ci è voluto allora approfitto rasoio e andiamo prima cosa amalgamare la sospensione poi adesso passerò uno anche due minuti aspettando che si tolga un po' d'acqua perché già in generale pure quello l'ho detto fino alla nausea le pietre giapponesi non amano essere affogate le pietre giapponesi lavorano meglio qualche cosa di più che inumidite ecco tanto per capirsi e qui di acqua sopra ce n'è ancora tanta visto che adesso tra il calore della stanza di illuminazione un po' ogni passaggio magari che cade dai bordi è inutile che mi metta a fare le cose per bene adesso devo passare devo perdere un po' di tempo fino a che l'acqua l'idratazione non arriverà alla giusta consistenza allora la pietra cambierà proprio carattere e ancora non ci siamo arrivati ancora è molto molto accusa la storia quasi finito non so neanche ecco lo sta scritto là ora è tre minuti e poi calcolando tutte le chiacchiere neanche tanto neanche tanto ero partito convinto che ci avrei messo molto molto più tempo tanto che aspetto faccio il solito giochino di dare qualche passaggio in più solo alla punta che è quella che rimane sempre un pochettino indietro ecco e a me questi passaggi così a mezzo rasoglio dentro e a mezzo rasoglio fuori mi fanno sempre ritornare alla mente il discorso dell'ansia ragazzoli affatela finita di preoccuparvi dai oggi su non mi ricordo a memoria come si chiama ma la persona quella che ha detto se c'è una data di scadenza quanto tempo possono durare le pietre se riposte e dai su è proprio vero quando pensi di averle sentite tutte invece c'è questa è paura è ansia un altro che mi è troccato maltrattarlo ma non siete voi non è uno di voi su youtube sulla pelle sulle coramelle addirittura su una coramella in gomma ma che posso fare di qua la manutenzione oh è il fatto che sia tagliata come una striscia ma sempre un pezzo di gomma che vuoi quando sei intasata un po' d'acqua e sapone che devi fare e poi la sciacqui se invece non è intasata ma comincia a diventare appiccicosa vuol dire che ha finito proprio il ciclo la gomma si sta decomponendo puoi cercare di allungare un po' la minestra con qualche crema idratante una volta che la gomma ha cominciato a deteriorarsi le gomme insomma eterne no c'è poco da fare però voglio dire io capisco chiedere anzi mi fa piacere apprezzo le persone che chiedono stiamo qua apposta però ci stanno certe domande che basterebbe ragionarci un pochettino sopra uno le risposte già ce l'ha già ce l'ha le risposte ecco io quelle non le capisco quelle sono le classiche domande che vengono da troppa paura dall'ansia non se famo prendere dall'ansia su quante volte mi avete sentito dirlo alla fine si tratta di strofinare pezzo di ferro sopra una pietra gente che si fa i problemi ma meglio la 5.000 ma meglio la 6.000 meglio la 7.000 ma pensate veramente che ci siano tutte queste differenze cioè quando devi arrivare ad un livello vuoi arrivare ad un livello eccelso allora si guardate che adesso sta cominciando a lavorare adesso forse voi ancora non lo vedete ma adesso eccola qua la belva la belvetta di papà vedete è diventato nero purtroppo l'inquadratura oggi è un po' più lontana del solito però ecco quando succedono queste cose adesso sta lavorando per come deve lavorare adesso il filo si sta raffinando adesso il filo sta diventando bello tagliente incazzato nero e adesso sto praticamente rovinando l'estetica del del bevel per cui più di tanto non insisto si insisto un po' perché per il discorso che vi ho fatto prima adesso mi interessa lavorare più sulla parte pulita della pietra e meno sulla fanghiglia perché la fanghiglia è praticamente adesso pronta per la prima diluizione non deve diventare troppo densa ecco la cosa bella da vedere da notare è che adesso la pietra ha acquistato velocità avresti due passaggi chiamiamoli normali a uscire era per stendere la fanghiglia lungo tutta la pietra non devo mai lavorare a pietra pulita un film piccolino microscopico di fango ci deve sempre essere ok quindi anche qui ma veramente avete visto ma quasi niente d'acqua meglio fare tante diluizioni piccole piuttosto che affogare la pietra quindi ecco adesso arriviamo alla mano da borseggiatore adesso arriviamo alla alla minima pressione da realizzare ripeto ma che non sarà mai solo il peso del rasoio un minimo ci sarà sempre se no gli abrasivi non lavorano comunque ci siamo quasi poi ve ne faccio vedere l'ultima che di solito non ve la faccio vedere ecco è un movimento diciamolo così che io e Bob facciamo in due modi differenti il principio è lo stesso cambia solamente il modo con cui realizzarlo è praticamente la pulizia del filo con seguendo le indicazioni che ci sono nel metodo Iwasaki solo che evidentemente abbiamo due libri con due traduzioni diverse io l'ho intesa in un modo Bob l'ha intesa nell'altro però sai alla fine sono i risultati quelli che contano e sicuramente funzionano tutte e due i metodi quindi adesso prima do una controllata e poi continuo per fare solo e soltanto gli ultimi movimenti a pulizia del filo allora pure qui una bella sciacquatina ok è rimasto un po' di fanghetto appiccicoso ma io che lo levo partendo dal fianco ok senza infierire più di tanto ecco qua andiamo devo cambiare inquadratura sennò poi non vedete niente gringo gringo allora ragazzi tutto come previsto a me quando succedono queste cose io gungolo ve l'avevo detto che avrei perso leggermente sulla sulla parte estetica ma avrei guadagnato sul filo eccolo lì mentre sull'ultimo passaggio di momiji yama era praticamente perfetto immacolato il bevel ma c'era ancora qualche piccolo ringrossino sul filo eccetera eccetera guardate adesso non è più perfettissimo il bevel ma ripeto non è più perfettissimo visto a 400 ingrandimenti su bambino che voi ormai già conoscete stavo parlando pure qui da un filo esteticamente di un bevel esteticamente insomma dai che cazzo gli devi dire ma guardate il filo teso tirato alla morte non ci sarebbero manco bisogno dei famosi passaggi però l'ho detto e ve li faccio vedere allora un attimo continuo a bagnare la pietra perché è un attimo che si asciuga allora boys andiamo qua piano di lavoro riprendo il rasoio praticamente i movimenti sono quelli a taglio di salame che Bob fa in una maniera con un con un movimento più ampio io invece li faccio movimento a terremoto mi aiuto con un dito per creare un punto fermo sulla pietra quindi appoggio la costa qua su questo dito mi inclino per fare entrare tutta la lama nella pietra e dopo di che faccio delle micro vibrazioni ci devono essere movimenti da ma un millimetro a destra o un millimetro a sinistra non so se si è visto ma è così basta dopodiché dall'altra parte vabbè ora devo mettere la mano davanti mi dispiace per voi che non vedrete bene eppure qui questo serve solamente per dare pulizia al filo basta basta fatto non si deve esagerare perché è un movimento pericoloso perché qua si potrebbero creare dei marchi di affilatura paralleli al filo e quindi potrebbero indebolirlo e questa serve solamente per fare un minimo di pulizia anzi un minimo per levare eventuali bave residui ma ripeto si può pure saltare perché poi si andava direttamente su coramella una bella tela e passava la paura adesso vediamo eccolo qua questo magari non è un altro punto ma va bene così va benissimo così guardate il filo non è ancora passato sulla coramella quindi questo è un filo da uscita di pietra un filo tirato fuori dopo un'ora e 15 minuti da affilatura su pietre naturali con un ingrandimento ottico spaventoso perché ripeto bambino lo conoscete si lo conoscete lo faccio pure ripetere stacco qualche cosa e ve lo inquadro ma senza coramella piace? ok diciamo che qui finisce ve lo faccio rivedere un'altra volta l'ultima volta ecco spilla pure il telefono speriamo che rispondiamo moglie eccolo qua lo so spostare non mi cambia niente cerco di aumentare la messa a fuoco sul filo che qui basta spostarsi 10 mm a questi ingrandimenti la profondità di campo la messa a fuoco è veramente si perde con attimo vabbè un po' di zozzeria sul coso bellino vero? allora e torniamo qua Romeo che dire mi inchina al maestro io te ringrazio ma io non so proprio un maestro vedi queste cose non so come esprimere mi fanno piacere perché mi fanno piacere a chi non farebbe piacere ti è piaciuto io ne so contento pensi che sia stato un bel lavoro io ne so contento però queste cose il maestro quell'altro che si fa il capitano che ha fatto sia il servizio militare treva tutti i grandi condottieri tutti i depositari della della scienza in terra io sono solamente uno appassionato d'affilatura che ha cominciato ad affilare per i cavoli suoi poi a un certo punto si è accorto che non c'era nessuno che su internet si trovano un sacco di cose ma sulla affilatura non c'era niente e quel po' che c'era era tutto straniero ah si Antonio hai perfettamente ragione ma ecco tu non l'hai sentito perché sei entrato a video iniziato ho detto va bene se vuoi se fa presto una sintetica una 3000 magari ottima marca una passatina sull'8000 e via infinitura quelli bravi non ce mettono manco l'8000 una bella 3000 di qualità tipo una Niva 3000 pro e poi vai direttamente con la pietra di finitura e il rasoio viene affilato benissimo giusto ecco se lo metti sotto un microscopio a 400 ingrandimenti e te poi accorge che che c'è qualche marchietto ad affilatura in più io oggi me la sono voluta prendere di riposo dopo 20 giorni in cui per tanti motivi che non dirò il tempo manca le cose da fare sono aumentate una cosa per me è stato una voglia di relax di ritagliarsi qualche qualche minutino in più per me no no se no d'accordo qui un'ora in quarta era su io però facciamo un'ora dai perché di tempo non ho perso tanto pure con le chiacchiere sì sì ma è così e stavo dicendo sono tutti i depositari dell'umana scienza in terra adesso ma quando ho cominciato io con i primi video che poi neanche tanti anni fa mi sa che ho cominciato a fare video di più vecchi buco che ci avranno tre o quattro anni ho voluto fare qualche cosa perché non si trovava niente in rete sull'affilatura dei rasoi c'era pochissimo qualche cosa c'era parecchio sull'affilatura dei coltelli dall'affilatura dei rasoi c'era molto poco tutta roba molto vecchia se vede che qualcuno ci aveva provato e poi ha lasciato perde in italiano pochissima roba ecco c'era giusto già i video di Bob quelli già c'erano e dico fa qualche cosa per quelli come me per più che per quello come me per quello che comincia io non ci ho avuto la possibilità di essere aiutato dalla rete magari faccio qualche video dedicato ai principianti che dice la cosa bella bravura a parte è che hai trasmesso la passione per questa cosa da un sacco di gente ecco Massimo questa è una cosa che mi fa veramente piacere io l'ho sempre detto ci sono quelli che affilano per necessità e quelli che affilano come me e tanti altri che mi vengono appresso per il gusto da affilare per me affilare non è lo scotto da pagare per farmi una bella barba ormai sto rasoio è affilato ma io non l'ho dovuto affilare molto probabilmente se l'avessi preso dalla sua custodia e gli avessi dato un centinaio di botte di coramella io mi facevo sicuramente una signora barba pure con sto barbone così lungo è stata la scusa per farmi una bella affilatura e nel frattempo io levo subito il nastro per significare due cose uno che l'affilatura è finita non è che spengo la camera e poi mi metto a corregge quello che no no l'affilatura è finita e due perché ho visto ecco tanti che se la tirano che ci credono che so convinti di sapere affilare che poi ti fanno il video mentre se fanno la barba con tutto il nastro sulla costa ma dico ma se tu te radi con il nastro sulla costa vuol dire che hai passato pure il rasoio sulla coramella con tutto il nastro ecco chiamate quelli maestri che so contenti che so felici che se credono godono ma diciamo perché devo concludere la polemica ok verissimo io sono uno di questi ancora molto lontano dai risultati ma insisto ragazzi va bene c'è tutto i risultati poi magari uno non si deve manca accontenta mai per cui quando ottieni il risultato pensa subito allo step successivo io vi lascio vi ringrazio della compagnia e vi lascio con l'ultima raccomandazione l'ultima l'unica quella che è qua quando affilate divertitevi rilassatevi deve essere un hobby un passatempo quell'oretta che vi prendete per voi non ci avete un'oretta una mezz'oretta ma deve essere comunque qualche cosa che quando passate dalla sedia state più tranquilli state meglio di quando avete cominciato e questo cozza con l'ansia che sto vedendo in giro ma faccio così o faccio cosa se mi dici le sceglie tra una bistecca e una salsiccia allora in effetti c'è da pensarci ma vedo certe domande proprio basate sul sesso degli angeli ma sarebbe meglio fare così e fare cos'ha ma se non è zuppa e poi ha mangiato tu dai che gli antichi non facciano male e poi fondamentalmente prova prova sulla faccia tua sulla pelle tua sul rasoio tuo perché a meno che non stiamo a parlare di una smerigliatrice a nastro non è che se possono fa tutti sti danni soprattutto quando vi fate i dubbi sulla pietra di finitura ma la uso così o la uso cos'ha stiamo a parlare di una pietra di finitura cioè di una pietra che è lucida che è di materiale ne asporta pochissimo dai basta basta con i cazziatori buon fine settimana a tutto il gruppo buon fine settimana pure a te Antonio parapapam poi che leggo così chiudo ma perché passare una coramella sul nastro è male ah le sa allora hai fatto bene a chiedere ti rispondo un'altra volta perché veramente dopo un'ora e venticinque a voglio chiude sta cosa è male te lo dico subito è un discorso meccanico di come l'acciaio abbraccia il filo se tu gli dai un rasoio nastrato quindi già provato di suo quando sfruttando l'elasticità della pelle la coramella risale perché per quanto tu la vuoi tenere in tensione c'è sempre un abbraccio della pelle sul filo questo abbraccio diventa troppo invasivo il filo lo stondi per cui affili su una pietra che è rigida con un nastro scoramelli abbassandolo quel quel rasoio mettendolo in piano perché quello che abbassi te lo riprende la coramella con la sua elasticità ma ce sarebbe tanto da parlare per cui ok ciao Antonio grazie che mi hai fatto compagnia ecco chiamate maestro Antonio soprattutto se ci avete in mano uno dei suoi rasoi quelli sono maestri no io io sono un ciafruglione detto questo ciao popolo ci vediamo alla prossima affilatura un saluto a tutti quanti allora come si fa termina il video in diretta si si termino ciao